L'RNA o acido ribonucleico ha struttura molto simile a quello del DNA con tre sole differenze. La timina è sostituita da una molecola leggermente diversa, l'uracile, lo zucchero e il ribosio, da cui il nome. Non è una doppia elica, ma una catena semplice. L'RNA è fondamentale per la trascrizione e la traduzione del DNA in proteine, ma svolge anche alcune importanti funzioni di regolazione dell'attività cellulare.